se ci ritroviamo di fronte a un soggetto adulto con una seconda oppure con una terza classe dobbiamo appunto valutare che tipo di trattamento ad operare se ovviamente siamo in un soggetto in fase di sviluppo sono altamente indicate le piste indirette di planas nelle seconde classi ovviamente faremo delle piste di seconda classe che permettono appunto di avanzare la mandibola e nei casi più gravi si può anche aggiungere la cosiddetta biella per poter diciamo correggere la problematica soprattutto nei biotipi negativi nelle terze classi invece andremo ad utilizzare appunto delle piste di planas di terza classe che favoriscono la retrusione della mandibola e in più molto spesso potrà essere utile anche l'arco di eschler se però un individuo in fase adulta deve eseguire un trattamento ortodontico fisso per le seconde classi dovremo appunto valutare se possibile l'utilizzo degli elastici di seconda classe le estrazioni a carico dell'arcata superiore se possibile dovrebbero essere evitate quello su cui invece ci si dovrebbe concentrare è appunto la modifica del piano clusale nelle terze classi invece si possono utilizzare le trazioni di terza classe ma anche qui sarà di fondamentale importanza modificare il piano clusale per evitare eventuali recidive